ragazzi un nuovo pacco scartiamo insieme vediamo cosa c'è come potete vedere l'azienda esciara la terra del pistacchio quindi cosa ci sarà mai innanzitutto croccantini di pistacchio che ora vi farò vedere la chicca la chicca questo pan brioche e quindi allora i croccantini al pistacchio si presentano così ne assaggiamo uno insieme ovviamente assaggio solo io su calimi calimi si possono mangiare così al naturale oppure congelato o dessert e adesso la chicca vediamo un po no vabbè troppo bello eccolo qui un buon pan brioche al pistacchio che profumino fantastico ne tagliamo un pezzetto e questo è ottimo da gustare a fine pasto ma comunque anche a colazione a merenda insomma è comunque super soffice lo spezzo insieme a voi o mamma che bontà no assaggiamo mmm è buonissimo comunque ragazzi io lo consiglio praticamente troppo buono si scioglie in bocca cala cala ciao 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 ciao